Un seminatore aveva un grande sogno dentro al suo cuore tanti semi vedere germogliare ed allora cominciò a seminare mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada ma degli uccelli arrivarono e la mangiarono continuò a piantare ed alcuni semi nelle rocce andarono a finire e subito germogliarono ma non avevano radici e si seccarono il seminatore seminava senza fine ed i semi catterò in mezzo alle spine ma non germogliarono perché i soffocarono e finalmente un'altra parte in terra buona cadde ogni seme germogliò e molto frutto portò ciò che è buono farlo sbocciare tienilo stretto e non farlo scappare ricevilo con gioia e non aver paura trattalo ogni giorno con ogni cura ciò che è buono frutto porterà ma ogni erbaccia nel fuoco finirà il seminatore felice sarà il suo sogno si avvererà ciò che è buono farlo sbocciare tienilo stretto e non farlo scappare ricevilo con gioia e non aver paura trattalo ogni giorno con ogni cura ciò che è buono frutto porterà ma ogni erbaccia nel fuoco finirà il seminatore felice sarà il suo sogno si avvererà è il suo sogno di poter Grazie a tutti.